Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi è venerdì 26 settembre 2014 e come sempre vi do il benvenuto a questa video analisi settimanale, video analisi offerta da Swissquot che vi propone le migliori condizioni di trading, un'offerta completa e un ambiente ottimale di trading supportati da un livello più elevato di standard in materia di integrità, sicurezza e qualità. Sono Stefano Bargiacchi, trader professionista. Le informazioni e le opinioni espresse nel corso del seguente seminario sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto e o vendita o raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, dei CFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. E allora eccoci finalmente al riassunto settimanale e puntuale di quanto è accaduto sui mercati, altra settimana estremamente convulsa, estremamente importante, che come sempre andremo a vedere insieme, a riassumere nelle tematiche principali, ponendo le basi e i temi da seguire, come di tradizione avviene da otto anni circa, temi da seguire appunto nella settimana entrante. E come sempre, la vedo analisi divisa in due metà, la prima dedicata come da tradizione a futures e indici, in particolare per Europa, Eurostox 50 e DAX, per gli Stati Uniti S&P 500 e Nasdaq, mentre poi per quanto concerne il Forex ci concentriamo, come sempre, su Euro-Dollaro, British Bound US-Dollar, US-Dollar Japanese Yen e US-Dollar CHF. In particolare seguiamo in queste ultime settimane, veramente molto importanti, la discesa di Euro-Dollaro arrivato, come vedete, poco al di sopra degli 1,26, quindi sicuramente un livello che conferma le discese, l'indebolimento dell'Euro, che dovrebbe giocare a favore di un recupero della nostra economia, come da un lato speriamo. Comunque, e con ordine, andiamo a vedere quello che è accaduto questa settimana, perché ci sono state discese molto importanti. Vi ricordate che eravamo in quest'area di massimi, ad un passo dalla conferma, sia su Stoxx che su DAX, della inversione a rialzo del trend che era ed è ancora, a tutt'oggi, ribassista, questo perché? Perché l'inversione a rialzo è venuta a mancare, in modo molto semplice, lo vedete, c'è stato proprio un rigetto del superamento dei massimi precedenti e una discesa che ha portato l'Eurostoxx sui minimi di questa zona, compresa appunto fra massimi e minimi che avrebbero confermato o negato l'inversione a rialzo del trend che resta formalmente, lo ripeto, rialzista, e per quanto riguarda il DAX addirittura, ricordate il DAX aveva superato di poco questi massimi che erano così decisivi per confermare l'inversione a rialzo del trend, ecco c'è stato anche qui un rigetto molto forte che ha portato il DAX addirittura a rompere questi minimi, quindi a riaffermare in qualche modo il trend ribassista. Allora, e in una parola, per quanto riguarda il DAX in pratica dobbiamo a questo punto prendere quest'ultimo massimo, poco al di sotto dei 10.000, e questo minimo, il minimo di agosto, e tutta questa zona è oggi una correzione ABC, cioè una correzione più ampia, all'interno della quale nulla si può dire sulla direzione del DAX che però rimane formalmente in trend ribassista, anche se quest'ampia correzione ABC ovviamente lo mette in parte in discussione, ma non così tanto da aver permesso, almeno ad oggi, un'inversione del trend giornaliero a rialzo. Quindi ripeto, prendiamo questi massimi, massimi di settembre questi minimi, minimi di agosto, e rimaniamo fermi all'interno di quest'area, che possiamo quindi chiamare oggi correzione ABC, una correzione quindi più ampia. Per quanto riguarda l'Eurostox, la situazione è praticamente analoga, nel senso che l'Eurostox aveva anche lui, e anche se di poco, rotto questi minimi, nella giornata poi di venerdì 26 c'è stato un pochino di recupero che ha riportato l'Eurostox all'interno di questi stessi minimi, minimi precedenti del mese di settembre, ma ripeto, a questo punto anche in questo caso conviene prendere l'area compresa fra i massimi di settembre e i minimi di agosto come area di correzione ABC nel trend che resta anche sull'Eurostox ancora e al momento decrescente, trend ribassista su time frame giornaliero. Quindi anche per Eurostox, fin tanto che rimarremo all'interno di quest'area di congestione, molto ampia, è vero, ma nulla si potrà dire sulla direzione del trend, e una volta usciti dalla stessa sarà necessaria comunque una conferma specialmente per l'uscita al rialzo e quindi l'inversione al rialzo del trend. Laddove se invece si dovesse uscire dalla correzione ABC dai minimi, da questi minimi, è ovvio che si avrebbe un immediato ristabilirsi del trend ribassista, che ripeto è però ancora in corso. Quindi e più in generale la divergenza tra un'Europa in trend ribassista e gli Stati Uniti in trend giornaliero rialzista è ancora presente e ancora rimane il tema principale sul quale concentrare la propria attenzione. Quindi per quanto concerne gli Stati Uniti che cosa è successo? Vediamo e ricordiamo l'S&P 500 è in correzione ABC da qualche tempo, in particolare dalla fine del mese di agosto. C'è stata prima una falsa rottura al rialzo della stessa e proprio in queste ultime sedute giovedì e venerdì una falsa rottura al ribasso della stessa, perché questi minimi precedenti a correzione ABC erano stati sì rotti al ribasso nella giornata di giovedì 25, i recuperi di venerdì hanno poi riportato l'S&P all'interno di questi minimi e quindi è di nuovo classificabile come falsa rottura al ribasso della correzione ABC e non ci resta che allargare i confini della stessa tra questi massimi e questi minimi, che poi sono i massimi e i minimi del mese di settembre. Di nuovo il trend è sul base giornaliera ancora rialzista, siamo in correzione ABC, quindi una correzione un pochino più ampia, della quale nulla si può dire, prendiamo i confini della stessa e finché rimarremo, ripeto, all'interno della stessa, nulla si potrà dire. Similmente a quanto detto qui sopra, un'uscita in direzione del trend, in questo caso al rialzo, sopra i massimi precedenti, ristabilirà pienamente il trend in senso rialzista. Per ora soltanto in pausa. Un'uscita al ribasso invece avrà bisogno di un'ulteriore conferma, quindi non sarà immediata l'eventuale inversione di trend al ribasso, anche perché il trend rialzista dura da tempo, da anni, in particolare quasi e sostanzialmente da 5 anni, quindi dal 2009 e per girarsi eventualmente ha bisogno di tempo e conferma. Quindi ripeto, per quanto concerne l'SP500, trend rialzista e correzione ABC, correzione ABC iniziata alla fine del mese di settembre, scusatemi agosto, e tra i massimi e minimi di settembre abbiamo i confini della stessa, appena aggiornati e allargati dalla falsa rottura avvenuta nella giornata di giovedì, rottura immediatamente rientrata. Molto più ordinata l'azione del Nasdaq, anche qua correzione ABC presente da fine mese di agosto, aveva sì falsamente rotto a rialzo nell'intraday la parte alta della correzione, per quanto riguarda la parte bassa invece, in area 4000 ai confini, questa settimana è avvenuto un test millimetrico della stessa, sempre nella giornata di giovedì, sempre a fronte di una forte negatività, ma negatività non confermata dalla rottura della congestione ABC che invece si era vista sull'S&P 500. Da lì infatti i minimi della congestione in area 4000, il Nasdaq è ripartito a rialzo con molta precisione, quindi come ha appena completato uno swing verso il basso, ora ha iniziato uno swing verso l'alto, che ha come obiettivo naturale, vero, l'area dei 4100, cioè massima correzione ABC, anche se ovviamente non è detto, obiettivo naturale non significa che li raggiunga per forza, ma che è la tematica da seguire, quindi l'area da tenere d'occhio rispetto alla quale giudicheremo il mercato, quindi se li raggiungerà, se si fermerà prima e tornerà indietro, oppure se eccederà a questo livello. Comunque, e anche per il Nasdaq abbiamo un indice in correzione ABC rispetto ad un trend crescente e il confine della correzione ABC sono i massimi e i minimi di questo mese di settembre che si va concludendo e fin tanto che rimarrà il Nasdaq interno a questi livelli, nulla si potrà dire appunto sulla sua reale intenzione, anche se ovviamente resta in atto, come per l'S&P 500, un trend rialzista. La correzione ABC è sull'S&P e Nasdaq molto contenuta e lo ripeto all'interno del trend rialzista, mentre, ed è qui la divergenza col mercato europeo, sul mercato europeo la correzione ABC è molto ampia e interna ad un trend ribassista. Resta quindi il tema principale della forte divergenza tra Stati Uniti ed Europa, Stati Uniti in trend rialzista e Europa in trend ribassista.